Marco Martini, una sconfitta in casa del Multedo, un momento difficile per la Capperanese. Sì, una sconfitta che fa male, perché secondo me il primo tempo abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo avuto delle belle occasioni, però il calcio è questo e siamo stati penalizzati da un gol così e così nel primo tempo e poi su una nostra disattenzione nel secondo tempo. Una bella punizione per rimettere il risultato incerto. Ci abbiamo provato, ma oggi è nata così. Comunque dobbiamo rimboccarci le maniche, perché secondo me siamo una buona squadra di qualità e se stiamo tutti uniti ci dobbiamo dare soddisfazione. Il campionato è ancora lungo? Assolutamente sì. Chi vedi come favorita? Come inizio anno sulla carta Torriglia. Io vedo molto bene il Vargagli, molto bene, perché secondo me è una squadra che gioca un buon calcio e poi noi possiamo dirla nostra insieme alla rezzana.